salve a tutti sono marco campanella benvenute e benvenuti sul mio canale oggi vi porto un video po diverso dal solito perché visto le vostre grandissime richieste su marco come ha come fatto quello schermo marco ma come impostato quel widget marco ma quanto è bello il tuo smartphone fatto in questo modo ho deciso di accontentarvi di fare un video step by step dove vi guido nella appunto creazione di questo gioiellino guardate è bello premetto che questa configurazione che vedete la potete applicare su qualunque android quindi io l'ho fatto sul mio notting ma va benissimo anche ad esempio sul reno 8 pro che portato sul canale se non avete visto andate a guardare piuttosto che sui samsung quindi è semplicissima basta seguirmi step by step video un po lunghetto mi raccomando mettete un like al video e soprattutto se non l'avete fatto se non l'avete fatto iscrivetevi al canale perché se volete vedere questi contenuti continuare a vedere questi contenuti ho già in servo un secondo episodio che ho chiamato design 2 dove ci sono un sacco di altre app di abbellimento eccetera però lo porterò sul canale non appena questo video avrà fatto un numero congruo di visualizzazioni perché sapete benissimo che le visualizzazioni sono il pane se per noi youtuber a voi non vi costa nulla mettere fare la visualizzazione a guardare il video mettere un like magari anche commentarlo è bello e brutto potete scrivere quello che volete sempre con educazione per poter ottenere questo chiaramente bisogna partire dal wallpaper come molti di voi sanno e se non lo fate seguitemi su instagram e mi diletto a fare dei wallpaper qua c'è tutta una mia selezione questo il wallpaper che ho scelto vi lascio il link in descrizione per poterlo scaricare utilizzarlo gratuitamente se vi va mettete un like anche solo per questa bellezza guardate che bello è fighissimo è scaricato una volta scaricato tranquillamente tenendo pigiato sulla parte di home su personalizzazioni ora io lo sto facendo con un android stock chiaramente da samsung piuttosto che oppo xiaomi o altri può cambiare andando su sfondo e stile io andrò a impostare cambia sfondo e quindi andrò a installare il mio il mio sfondo ok quindi questo lo potete fare tranquillamente anche voi schermata home una volta installato sulla home il nostro è il nostro bel wallpaper dobbiamo cambiare chiaramente le icone perché a me queste icone così tutte spara flashate colorate non mi piacciono magari a voi sì quindi detto questo quello che andremo a fare è andare a ritappare nuovamente sul display andare su personalizzazione e andare su pacco icone il mail il il percorso può cambiare da smartphone a smartphone però diciamo che sono tutti abbastanza uguali io ho scelto icone a tema ma l'icone a tema sono state introdotte con android e quindi la possibilità a differenza del valore predefinito come vedete la possibilità di avere il tono su tono il colore no classico di android 12 android 13 nell'eventualità voi non dovesse avere questa opportunità con cioè questa non avete android 13 di fatto o no ma anche sul 12 è presente andate a scaricare questo charcoal free un un icon pack gratuito che trovate sull'apple store vi lascio il link in descrizione e come vedete le icone sono abbastanza abbastanza simili hanno sempre quell'effetto molto gradevole e una volta impostata le icone e selezionate dobbiamo andare a abbellire diciamo la prima parte del nostro schermo e lo facciamo andando a utilizzare la nostra app kvgt kvgt che è un'app molto nota per poter modificare il proprio il proprio device io ho scelto dei plugin di kvgt vi lascio tutti i link quindi non vi preoccupate e sono e non li ho editati quindi li potete scaricare andare a prendere il pacchetto come in questo caso nel caso dell'orologio si parla del del desaturate kvgt 7 e i7 ok vi lascio il link quindi andiamo a scaricare per per intenderci andiamo a inserire il nostro orologino lo facciamo insieme in questa pagina quindi io tappo tengo tappato vado su widget una volta scaricato kvgt me lo vado a cercare con la k ok prendo questo uno per uno lo trascino al centro lo vado allargare per lo spazio che diciamo che così va bene una volta che tengo premuto apro avvio la applicazione vado a scaricarmi questo desaturate kvgt una volta scaricato vado a trovarmi il codice che se non erro è l'i7 e andiamo a tappare su questa voce e lo va a impostare quindi lo va a salvare e di fatto basta andare a tappare su salva e noi abbiamo questa risultante adesso vedete che ci sono le ombrette un po così basta ritappare dentro andare muoversi qui fra questi fra questi sheet quindi in questo caso io vado sul livello e andiamo a diminuire un pochettino la proporzione in maniera tale che le sfumature che vedete carine restino dentro e non vengano segate quindi 58 6 va più che bene io lo risalvo è una volta salvato il risultato che otteniamo è proprio questo abbiamo messo il nostro orologino ok altra figata siccome quando andiamo a tappare con con kvgt non è possibile fare operazioni in primo luogo a meno che non siate voi ad andare sempre tramite questi sheet su tocco andare a selezionare tocco azione custom cliccate si apre azione custom dite di avviare un app andate a selezionare la vostra app ora io in questo caso ho chiaramente messo il calendario ok quindi ho selezionato il calendario sempre salva lui ha salvato torno indietro tutte le volte che andrò a tappare qui mi si aprirà il mio bel calendario una figata no quindi iniziamo a rendere non soltanto bello ma anche decisamente molto funzionale il nostro device per ottenere questo facciamo la stessa identica cosa come prima andiamo qui andiamo a selezionare il nostro pacchetto blender che vi lascio qui sotto sempre in descrizione dove dove l'ho messo il pacchetto blender c'era blender blended kvgt e ci andiamo a prendere se non ricordo male lo 0012 guardate quanti ce ne sono e quanti possiamo editare poi magari se vi va facciamo un video dedicato all'editing eccolo qua ma andiamo aumentare chiaramente il livello la dimensione ok cerchiamo sempre di mantenere i contorni fatti bene poi ci spostiamo sul tocco azione custom azione custom clicchiamo andiamo a mettere avvia l'app scegliamo un app e in questo caso ho messo l'orologio in maniera tale che possa impostarmi le mie sveglie quando mi pare e voilà e lui è partito chiaramente potete dimensionarlo come meglio credete e in questo caso ecco abbiamo fatto anche questo quindi diciamo che la nostra prima pagina l'abbiamo fatta l'abbiamo ottenuta passiamo prima di andare avanti con le altre centomila funzioni perché così potrebbe sembrare scarno ma non è scarno perché è zeppo di funzioni e soprattutto a tutte le funzioni che cerchiamo nel nostro smartphone quindi ci spostiamo nella seconda pagina perché sono di fatto due pagine che ho realizzato andiamo a scaricare l'app che si chiama mont una volta scaricato mont basta basta andare a a fare sempre con come widget ve lo andrete a ritrovare ve lo andrete a ritrovare mont dove mont mont qua quindi andate prendete questo glielo schiaffate dentro e poi andate a modificare come meglio credete mont e ci dà la possibilità appunto di andare a scaricandola vi lascio il link ci sono due impostazioni la versione pro ma di fatto questa è gratuita e potete andare a impostare tutti i temi che volete il tema che ho impostato io è esattamente questo quello che vedete meno di tutti proprio perché mi piaceva in questo modo lasciate andare la pubblicità chiaramente in qualche modo dovranno pagarsi questi sviluppatori quindi io sono sempre per far comprare le applicazioni qua potete regolare addirittura anche la trasparenza eccetera eccetera però detto questo a noi basta che venga in questo modo questo è semplicissimo perché una volta che tappiamo sul giorno come vedete viene fuori qualcosa è chiaro che c'è sempre la pubblicità se non la volete basta scaricare quella premium una cosa che mi piace tanto di questo di questo di questo di questa applicazione il fatto che possiamo aggiungere le faccine possiamo in maniera veloce e rapida fare fare scrivere una nota ci fa vedere i compleanni li va a prendere chiaramente dal nostro calendario ma soprattutto per uno come me che vuole vedere vuole vedere i velocemente tutto il calendario ora è figata avete la possibilità di andare avanti indietro no si fermano così andare avanti indietro e vedere un po tutto il calendario basta tappare qui andiamo a installare quest'altro k vgt e andiamo a prendere questo 19 che fa parte del pacchetto o minimal vi lascio sempre il link in descrizione non dobbiamo fare altro questo che è prenderlo così come schiaffarlo lì e andarlo a riporre nel posto nella posizione che preferiamo in questo caso io l'ho messo sotto il sottomount andiamo a rifare sempre con tocco con tocco abilitare l'app del meteo in maniera tale che il risultato sia questo quindi abbiamo adesso le nostre due belle paginette ma qui sopra ci sono sempre tutte le varie iconcine schifose che arrivano e che ci mettono lì batteria eccetera eccetera allora prima cosa da fare vi invito a scaricare questa app che si chiama system iui tuned andare su vi lascio il link in descrizione barra di stato e andare a defleggare tutto in maniera tale che si cancellino tutte le iconcine qui sopra adesso vi dico io che cosa dobbiamo fare per avere invece tutto il controllo dello smartphone comunque lasciando sempre questa bella interfaccia questa bella pulita cioè guardate che splendore dobbiamo andare a scaricare quest'altra app che si chiama super super status bar sempre link in descrizione e dobbiamo con cui grazie a questa app che ha tantissime tantissime funzioni diciamo che ce ne occorrono in questo momento appena due poi le altre le vedremo nel prossimo video e una è quella di andando a mettere barra della batteria qua andare a impostare il la batteria il nostro stato della batteria anziché avere la squallita batteria qui con la percentuale eccetera eccetera la batteria è questa quando è tutto carico sarà tutta piena questa lineetta quando invece si scarica come vedete è così anche qui possiamo andare a fare una miriade di funzioni e regolare una miriade di funzioni guardate l'altezza quanto deve essere alta quanto si deve vedere io l'ho messa uno quanto deve essere staccata o attaccata al bordo superiore se l'allineamento va a destra o a centro a sinistra queste potete sceglierle voi ci sono alcune funzioni ad esempio potete comprando l'app e mi invito a farlo perché comunque gli sviluppatori si meritano sempre quantità alla fine costano un euro due euro cioè vale la sono soldi ben spesi e potete andare a cambiare il colore addirittura mettere la trasparenza io ho messo questo bianco perché riprende poi tutto il resto del del layout ecco quindi potete impostarlo come meglio credete e qui abbiamo già la prima la prima cosa che è la batteria un'altra funzione molto molto utile che vi consiglio di scaricare è tramite quest'app si ottiene tramite quest'app che si chiama dynamic spot sempre link in descrizione questo vi dà la possibilità di andare ad avere la dynamic island su direttamente sul nostro nostra camera quindi potete tranquillamente andare a regolare la posizione dove lo volete quanto volete largo eccetera eccetera ma la cosa più figa è che questa questa funzione vi basta tenere premuto vi dà la possibilità appunto di accedere direttamente alla notifica dell'app che vi è arrivata ed è bellissima perché oltre a fare questo potete anche tenendo la premuta e facendo uno swipe schipparla ma la cosa ancora più figa è che quando decidete di ascoltare esempio spotify e facciamo partire una qualunque canzone io faccio partire questa qui in automatico lui vedete si abilita e quando vado a tappare o la mi si apre questo modulino per poter mandare avanti la traccia mandarla indietro piuttosto che andare avanti o indietro con con la traccia questa è una figata ok abbiamo sistemato la nostra barra qui su abbiamo sistemato il le nostre notifiche che arrivano e tutto questo lasciando in tonso praticamente bellissimo è pulito senza sbavature abbiamo impostato le nostre funzioni su basta tappando direttamente sui widget che abbiamo impostato si aprono tutta una serie di informazioni eccetera eccetera adesso dobbiamo un'altra funzione che vi consiglio sempre di utilizzare è sempre dentro o super status bar l'app indicatori che è una figata perché con questa app basta tenere pigiato e swipe pare da un lato e dall'altro e possiamo andare a regolare tranquillamente la luminosità del nostro schermo guardate che carina con questa animazione dovete semplicemente abilitarla dare chiaramente per tutte queste app dare le autorizzazioni di sistema e lui in automatico ha fatto da quest'ulteriore funzione quindi non vi sto portando un layout che sia solo bello ma anche un layout che abbia che sia bello carico di funzioni e che ci possa dare maniera magari diversa dal solito la possibilità di poter interagire con lui altra modifica carina estetica ma per chi non ha android 13 è figa è proprio questa del volume come vedete il volume può essere regolato in questo modo tappando qui abbiamo si apre tutto un altro tipo di tutte le altre le altre regolazioni questo lo facciamo con questa app volume stylus che vi lascio sempre in descrizione qui abbiamo la possibilità di personalizzare come meglio crediamo io ho scelto di mettere questa in stile iOS che aveva i colori colori che mi piacevano di più e le funzioni sono tutte uguali possiamo addirittura andare a personalizzare un nostro stile farcela come meglio crediamo un posizione dove posizionarla eccetera io l'ho posizionata su questo lato proprio perché vicino ai tasti del volume e mi piaceva in questo modo molto carina e funziona molto funzionale perché alla fine cioè veramente gestisci può gestire tutti anche guardate la trasparenza che si crea e soprattutto guardate l'animazione quando si chiude ecco queste cose mi piacciono mi piacciono da morire ok marco ma mi mancano tutte e chiaramente in questa situazione io c'ho soltanto queste 4 5 app e tutto il resto dove le metti ecco le mettiamo qua in questo pannellino molto molto comodo questa è un app che io ho utilizzato tantissimo e su tutti gli smartphone che non siano samsung perché su samsung sapete che è fatta molto molto bene questa è è esattamente la replica di quella funzione samsung e si chiama one edge chi mi segue da tanto tempo su youtube mi raccomando iscrivetevi se non se non l'avete ancora fatto sa che questa app è sempre stata su tutti gli smartphone android e le provavo sempre presente possiamo andare a inserire editando e chiaramente scegliendo le app che vogliamo piuttosto che i contatti e più tutta una serie di robe e replica esattamente quello che succede con la status bar di di samsung l'ultima app che diciamo esplode un po più mi dà la possibilità di avere più app sotto mano e quando devo devo lavorare evitando di andare a ricorrere alla ricerca disperata delle delle app e appunto questa notification shield notification shortcut che anche questo c'è una versione gratuita e a pagamento vi lascio sotto il link potete andare a impostare una volta aperta dovete chiaramente abilitare quindi date tutte le abilitazioni state tranquilli queste app vengono da tutte dal play store quindi sono tutte assolutamente garantite sono 7 per 3 21 quindi la possibilità di impostare 21 21 icone e soltanto la prima fila se impostate solo la prima fila è gratuita poi per gli altri vi chiede di andare alla versione a pagamento diciamo che queste 7 vanno bene e in automatico una volta impostate ve le ritroverete qui sul pannello guardate che figata e poi da qui potete tranquillamente andare sulle vostre pagine fare tutto avere tutto quanto sempre a portata di click io mi auguro che questo mio video step by step vi sia servito questo tutorial che soprattutto vi piaccia la mia configurazione e soprattutto se volete vedere la seconda parte tanti cuoricini diffondete diffondete così vi porto la seconda parte poi ce ne sarà una terza una quarta e magari facciamo partire questo format sempre se a voi piace perché se devo farlo solo per me me lo faccio per me basta e mi scriverete ma quanto è bello il tuo layout va bene ragazzi io vi saluto con questo è veramente tutto ci vediamo nel prossimo fantastico fantastico già fantastico video ciao ciao